Allora Andrea Luperini, una partita incredibile, il primo tempo 4 a 1, poi 4 pari, 6 a 4, insomma sembra di essere alla fine su scherzi a parte. Sì, infatti mi ci viene quasi da ridere perché alla fine, insomma una partita stradominata poteva finire 7, 8 a 1 alla fine del primo tempo, c'era la gente che aveva già l'asciugamani per andare sul mare, visto la giornata, e poi invece si è lasciato forse la squadra dentro lo spogliatoio, rientro in campo e questo è quello che succede quando non siamo più una squadra collegata ma si pensa a ognuno che ormai la partita sia finita, purtroppo gli episodi succedono, è successo, meno male che poi alla fine l'abbiamo rivediato e abbiamo fatto altri due gol perché se noi eravamo qui a piangere di una partita ampiamente vinta e poi portata via con un pareggio che penso che sarebbe stata una beffa più del dovuto. Ecco, tu cosa pensi? Che si abbia inciso molto anche la stanchezza della Coppa a merdo la mercoledì? Ma no, guarda, non credo, non credo. Io ho inciso molto la semplicità della chiusura del primo tempo sul 4 a 1, questo ho inciso molto, ho inciso molto il fatto che ogni volta che si affondava si diventava un pericolo pubblico per la porta del San Marcavenza, abbiamo sbagliato, non lo so se l'hai contato anche te, ma mi sembra 4-5 gol sul 4 a 1 addirittura, quindi credo che alla fine nella testa dei giocatori venga l'idea di dire tanto qui ormai è tutto facile e quando succede questo nel calcio purtroppo si trova anche le sorprese, non sempre così perché poi è andata bene anche a loro perché hanno fatto dei gol anche su qualche episodio, però insomma posso dire una cosa, bravi lo stesso perché poi siamo su quattro pari e abbiamo ritrovato due gol di nuovo, quindi vuol dire che poi dentro la forza ce l'abbiamo per poter reagire, ma non sempre succede, quindi questo deve servire per dare dimostrazione che le partite finiscano al novantesimo e anche dopo 5 minuti. Ecco, col pareggio del Pietrasanta i punti di vantaggio salgono a 13, domenica si potrebbe in caso di vittoria e sconfitta del Pietrasanta festeggiare la promozione in Serie D. Sì, va beh, insomma questo è un eufemismo che l'ho detti te, però alla fine noi abbiamo logicamente da giocarsi ancora 6 partite di campionato, 13 punti sono tanti, è vero, perché è la verità, ma aspettiamo di domenica in domenica di dover arrivare a un obiettivo che per noi sarebbe importante, poi se succede domenica o se succede fra due domeniche o tre domeniche credo che cambi poco, perché alla fine siamo qua pronti e abbiamo dimostrato anche oggi, nonostante che non siamo rientrati in campo nel secondo tempo, ma abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte e che non abbiamo timori reverenziali contro nessuno.